Innotec fornisce attrezzature e diagnosi complete per officine, carrozzerie e centri revisione, nonché attrezzature per autolavaggi. Innotec, lo specialista sempre al tuo fianco. Una catena umana e più di 12.000 firme per una proposta di legge ed iniziativa popolare a favore delle persone con disabilità e con disturbo dello spettro autistico. Il progetto del Comitato Diritto alla Cura comincia ad ottenere i primi risultati. Dopo numerose richieste d'incontro, venerdì scorso 3 febbraio, presso l'auditorium regionale è stata convocata una riunione con l'assessore regionale alle politiche sociali, Lucia Fortini, insieme alle numerose associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. Dopo il primo step, ora si attende l'esito del Consiglio regionale. L'obiettivo principale è quello di attuare una nuova politica e una presa in carico continuativa e dinamica dei pazienti. Un progetto che prevede non solo il cosiddetto dopo di noi, ma anche un con noi, che accompagna e guidi le famiglie durante tutte le fasi della vita dei pazienti. Questa mattina abbiamo incontrato Anna Rita Ruggiero, referente del progetto sociale Io sono Nicolò e del Comitato Diritto alla Cura, e Amelia Mangiacapra, presidente della cooperativa sociale Autismo e Abba di Pagani. Noi rappresentiamo tutte le disabilità e nel caso specifico l'autismo. Sono anni che rincorriamo budget, sono anni che rincorriamo scadenze burocratiche. Da quest'anno, sull'emergenza, perché avevano ridotto a 180 giorni la presa in carico dei pazienti, ci siamo tutti uniti in una catena umana e abbiamo raccolto 12.262 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare da portare all'Aggiunta regionale. È stata depositata il 10 gennaio e vi do la bellissima notizia che è passato anche il primo step, la prima commissione, adesso verrà valutata e discussa la quinta commissione. Che cosa manca sul territorio? Che cosa chiedete? Chiarezza, di non più rincorrere budget o scadenza, perché naturalmente se un paziente ha delle patologie irreversibili, ha delle patologie conclamate, è vero che noi ogni sei mesi, ogni anno andiamo a controllo per cambiare il piano terapeutico, per rinnovare qualcosa, però il paziente purtroppo non esce dalla 104, non esce dalla patologia, quindi noi vogliamo una serenità di trattamento, che poi sia una presa in carico globale, totale e questo a noi ci dà alle famiglie, ai pazienti, dignità e diritto. E noi, oltre al dopo di noi, che è un besticcio di parole, noi chiediamo il con noi, perché ci ha bisogno di un supporto quotidiano, di una riabilitazione, di una abilitazione costante, perché al di là della patologia conclamata, noi vediamo che a piccoli passi, a piccoli step, i nostri ragazzi, i nostri adulti, perché ormai non c'è più una differenzazione di età, sia dalla diagnosi, sia dalla patologia, riescono a godere delle piccole gioie della vita. Io sono mamma di un ragazzo con autismo di 20 anni e facciamo parte come ente del coordinamento Campania Out 2016, che ha come presidente Vincenzo Abbate, anche lui papà di due gemelli autistici. Il problema è includere proprio questi ragazzi all'interno della società, tant'è vero che all'interno della regione noi abbiamo avuto un incontro con l'assessore Fortini, proprio pochi giorni fa, per quanto riguarda un finanziamento per la progettazione proprio dei ragazzi più grandi. Il problema non è il budget che viene dato dalla regione, il problema è la continuità da dare a questi ragazzi, perché un budget in questo momento si può dare, però poi rimane così. E quindi quello che noi abbiamo chiesto alla Fortini, visto l'incontro avuto, è stato fortemente quello di creare una consulta, è quello di fare in modo che ci sia un PDTA all'interno proprio della vita del soggetto con autismo, perché l'autismo è una patologia che una persona porta avanti per tutta la vita e quindi non è che dall'oggi al domani scompare, invece purtroppo allo stato attuale, dopo i 18 anni, i nostri ragazzi è come se non avessero diagnosi tendenzialmente. E quindi noi genitori stiamo cercando in tutti i modi di poter far sì che quando noi non ci saremo più, questi nostri ragazzi possono avere veramente una continuità di vita e un'inclusione sociale però fattiva.